Ciao ragazzi, sono sempre io, Tuccio Lorenzo, qui su Tuccio TV, e oggi siamo qui per un nuovissimo video recensione. Infatti andremo ad aprire, a visionare un po' una lattina di Red Bull Lime, l'avete letto sicuramente dal titolo, e sono curioso di assaggiarla perché davvero questo gusto per me è la prima volta che lo provo, perciò appunto sono veramente veramente curioso di sapere il suo sapore. Eccoci qui ragazzi con la nostra lattina di Red Bull, come potete vedere questa edizione qui rispetto alla classica ha un design apparentemente diverso, infatti anziché essere bicolore è tutta verde, infatti è di un bel verde smeraldo, tutto metallizzato, con i due tori immancabili che si scontrano qui in alto a sinistra. Sì, il design della lattina è apparentemente carino, niente da dire, mentre sul retro troviamo tutti i valori nutrizionali e gli ingredienti, caso mai vi interessasse. Quindi questa è la nostra lattina, la metto qui così la potete visionare, potete vedere un po' com'è fatta, ed è appunto gusto Lime Edition, quindi un gusto totalmente nuovo. Sono curioso di provarla. Eccoci qua ragazzi con un bicchiere pulito, questo non può mancare perché giustamente dobbiamo vedere di che colore è fatta la nostra Red Bull, visionare un po' com'è fatta e direi di aprire la lattina. Allora, versiamone un po' qui dentro. Come mi aspettavo, il colore della bevanda rispecchia abbastanza il colore della lattina, infatti si vede proprio che è di colore verde, un po' come il lime, no? Potete vedere di questo verde molto molto trasparente, ha un colore limpido. Si nota lievemente, però se si è un po' attenti lo si riesce a capire che è un po' verdognolo. Tende molto a essere trasparente, un po' come la gassosa, ecco. Però, per il resto, se voi guardate bene, si capisce che è verde. Non so se dalla telecamera lo si comprende, però vi assicuro che è verde. Quindi, sì, ha un bel colore limpido, trasparente, non è nitido. E quindi, sì, vediamo se è buona. Allora ragazzi, ora che abbiamo visto come è fatta la bevanda, direi subito di assaggiarla. Non male ragazzi, davvero, è molto molto buona, infatti si sente subito a primo impanto l'intenso e inconfondibile sapore del lime, molto asco, molto deciso. Non ha alcun retrogusto particolare, questo lo devo dire, ma per il resto veramente ottima, perché, appunto, se volete provare una Red Bull dal sapore differente rispetto alla classica, beh, questa va a caso vostro, soprattutto se vi piace il lime, perché, ripeto, ha un sapore veramente intenso. L'unico piccolo difetto che ha questa bevanda, possiamo dire, è quello che, appunto, c'è un equilibrio scarso tra sapore e frizzantezza, perché si è un po' troppo frizzante, si sente subito il frizzante e lascia in bocca un po' il frizzante. Poi qua dipende da gusti e gusti, c'è a chi piace più frizzante, c'è a chi piace meno frizzante, però non è male, anzi, è anche molto buona. Perciò direi di concludere qui. Allora ragazzi, quella che abbiamo appena visto era una lattina di Red Bull Gusto Lime. Se vi è piaciuto, ovviamente, questo video, lasciate un like, commentate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Vi consiglio davvero di provarla, perché ha un gusto di tutto unico. Io concludo qui questo video e ci becchiamo alla prossima da Tuccio TV. Ciao!